Buongiorno a tutti da Valerio Villa da Metropolis Immobiliare e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi accompagno in una delle più belle località di Lugano, siamo a Lugano Castagnola in posizione dominante e vista lago e quello che visiteremo è un grande 3,5 locali che originariamente era un 4,5 locali di circa 110 metri quadrati dotato anche di un posto auto che si trova al primo piano dello stabile che appunto vedete qui di fronte a me, uno stabile appunto degli anni 70 del quale appunto questo appartamento è stato ristrutturato completamente nel 2016. Prima di entrare come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche con la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità relative a Metropolis. Adesso seguitemi che andiamo al primo piano per visitare questo bellissimo 3,5 locali. Bene siamo arrivati al primo piano con un comodo ascensore che è stato sostituito quindi di ottime dimensioni, abbiamo la scala condominiale che ci porta ovviamente al piano anche e poi accediamo all'unità come vedete abbiamo da subito un bell'ingresso molto ampio con delle grandi cabine armadio e abbiamo subito sulla sinistra anche lo spazio della lavanderia dove appunto possiamo installare lavatrice asciugatrice, un bellissimo spazio con porta scorrevole. Vi faccio presente come ovviamente si può notare che l'appartamento è stato tutto interamente ristrutturato nell'anno 2016 con dei materiali veramente ottimi. abbiamo appunto una bella zona living molto spaziosa divisa in salotto e zona cucina pranzo decisamente tutto molto spazioso come vedete tutto completamente ristrutturato anche la cucina abbiamo una cucina molto ampia completamente accessoriata abbiamo appunto questo mobile dedicato con il forno e il frigo congelatore. La vista ci tengo ovviamente a mostrarvela per qualche secondo perché è davvero difficile da commentare a parole è una vista appunto che possiamo godere da tutta la zona giorno e ovviamente anche grazie a queste due terrazze abbiamo una terrazzina qui e un'ampia terrazza su quest'altro lato che ci tengo a mostrarvi come vedete anche i serramenti sono completamente nuovi con doppio vetro siamo in una posizione tra le più belle nel comune di Castagnola quindi Lugano-Castagnola in pochi minuti raggiungiamo Cassarate quindi è una posizione anche molto strategica e molto privilegiata tranquillissima siamo circondati dal verde e ovviamente abbiamo una vista lago come avete potuto notare che è davvero si può dire unica e soprattutto imprendibile perché non è più possibile edificare nulla di fronte a questo stabile. Adesso mi accompagno passando sempre dall'ingresso quindi vedendo ancora la parte relativa alle cabine armadio che ci tengo a mostrarvi perché sono delle cabine armadio accessoriate con tutti gli accessori per organizzare meglio gli spazi e abbiamo quindi tantissimo spazio per organizzare meglio tutto quello che è la gestione della casa. Qui abbiamo un bagno che è il bagno che serve della zona Giorno che è un bagno molto spazioso con una bella doccia che è interamente ristrutturato qui abbiamo una camera con una sua cabina armadio quindi ci sta ambellendo l'armadio ce l'abbiamo già a sua misura. Ci tengo a precisare che l'appartamento oltre ad essere stato interamente ristrutturato come dicevo nel 2016 inizialmente era un 4 e mezzo locale quindi è un 3 e mezzo ma di veramente ottime dimensioni. Qui abbiamo la seconda camera dotata anch'essa con una bella cabina armadio molto spaziosa e grande quindi dovete considerare che lo spazio della camera è solo per il letto e qui abbiamo un bellissimo bagno finestrato con una bella doccia quindi anche qui interamente ristrutturato con il bidet adesso vi riaccompagno nella zona Giorno così da fornirvi tutte le informazioni dettagliate che è relativa a questa proprietà come dicevo appunto quello che abbiamo visto è un antio 3 e mezzo locale parliamo di circa 110 metri quadrati con delle bellissime terrazze come avete potuto notare che vedete alle mie spalle abbiamo una vista largo incredibile è un appartamento appunto che è stato ristrutturato interamente nel 2016 è dotato anche in un posto auto nell'autorimessa e di una cantina. Nella descrizione del video trovate tutte le informazioni dettagliate quindi se vi servono ulteriori dettagli e dati potete trovare un'ampia descrizione proprio qui sotto al video oppure tramite il link che trovate sempre nella descrizione potete accedere nella scheda dell'immobile per poter vedere tutte le specifiche tecniche, il prezzo, è un appartamento in vendita e ogni altra informazione che vi può interessare per una attenta valutazione. Ovviamente siamo a vostra disposizione tramite il numero di telefono che vedete qui sotto e il sito metropolisimmobiliare.com così da potervi dare tutte le informazioni che vi servono o eventualmente se vi è piaciuto il video e pensate che questo è l'oggetto ideale per voi anche contattarci per potervi chiedere un appuntamento per una visita sul posto Io prima di salutarvi ovviamente vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche con la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutte le novità immobiliari relative alla metropolis e non vi dimentico di ricordarvi che se avete un immobile in vendita a Ungano, L'Egrisio, L'Inzola, Locavo, quindi nel canto Ticino un appartamento, una casa, una villa, un terreno non esitate a contattarci perché Metropolis si avvantaggia di un team numeroso e competente e soprattutto di migliaia di clienti qualificati e solvibili dei quali sappiamo ogni parametro di ricerca e ovviamente sappiamo anche che possono acquistare quindi il vostro oggetto potrebbe essere l'oggetto giusto per qualcuno di questi clienti molto ben qualificati e durante una visita senza impegno con il nostro consulente potremmo anche mostrarvi già chi sono i clienti potenziali tramite il nostro sistema RealPret quindi un sistema innovativo che ci permette di vedere in tempo reale i nomi delle persone che qualificano per il vostro immobile. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me anche oggi nella visita di questo ampio tra i mezzi locali ristrutturato Organo Castagnola vi auguro una meravigliosa giornata e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti! Grazie a tutti!